Ben trovati ragazzi alle linee di tiro del Caccia Village, siamo alla linea Benelli come sapete questa è l'opportunità per provare direttamente le armi sul campo per avere le prime sensazioni allo sparo noi abbiamo già provato il nuovo semi automatico M2 lo abbiamo fatto durante il Benelli Hunting Test Adventure vi racconteremo nelle prossime uscite nel sito come è andata ma nel frattempo visto che lo abbiamo qui nella versione calibro 20 andiamo a sparare qualche piattello oh 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 beh diciamo che era come me lo ricordavo un divertimento ragazzi oh 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 Grazie a tutti.